Lezione 1. Che ne dite di incontrarci fuori dal supermercato? Ehi, Anna! Ci vediamo oggi? Certo, John! Che ne dite di incontrarci fuori dal supermercato? Suona bene, Anna. A che ora ti piace? Che ne dite delle 17? Funziona per te, John? Perfetto, Anna. Ci vediamo lì alle 17. Ottimo! Arriverò giusto in tempo, John. A proposito, ti serve qualcosa dal supermercato? In realtà sì. Puoi prendermi del latte, John? Assolutamente, Anna. Consideralo fatto. Sei il migliore, John. Grazie in anticipo. Nessun problema, Anna. Felice di aiutarvi. Oh, e non dimenticare anche le uova, John. Capito, Anna. Latte e uova, in arrivo. Grazie, John. Sei un vero toccasana. Sto solo facendo la mia parte, Anna. A presto. A presto, John. Non vedo l'ora di recuperare il ritardo. Anch'io, Anna. Sarà bello vederti. Lezione 2. Hai sentito parlare delle truffe sui taxi aeroportuali? Ehi, Anna. Hai sentito parlare di truffe sui taxi aeroportuali? Sì, John. Possono essere piuttosto frustranti e costose. È importante garantire una tariffa equa, soprattutto quando si viaggia. Assolutamente, John. Dovremmo essere consapevoli e rimanere vigili. La ricerca preventiva di servizi di taxi affidabili può essere d'aiuto. Buona idea, John. Controlliamo recensioni e valutazioni. Inoltre, conferma la tariffa con l'autista prima di salire. Sicuramente, John. Nessuna sorpresa alla fine del viaggio. Se qualcosa non va, possiamo sempre scegliere un altro taxi. Fidarsi del proprio estinto è fondamentale, John. La sicurezza prima di tutto. E in caso di dubbio, possiamo chiedere consigli all'agente del posto. L'agente del posto di solito conosce le opzioni più affidabili, John. Rimaniamo alerta e non cadiamo nelle truffe sui taxi, Anna. Assolutamente, John. Saremo viaggiatori intelligenti e ci proteggeremo. Insieme, affronteremo la scena dei taxi aeroportuali come professionisti. Nessuna truffa ci sfuggirà, John. Abbiamo questo. Pronta a garantire una tariffa equa e un viaggio senza intoppi, Anna? Pronto come sempre, John. Rendiamo il nostro viaggio senza problemi. Viaggiate in sicurezza e superate in astuzia qualsiasi truffa sui taxi, Anna. Congratulazioni, John. Che l'avventura abbia inizio. Lezione 3. Ultimamente ho pensato di esplorare nuovi hobby. Ehi, Anna. Ultimamente ho pensato di esplorare nuovi hobby. Ottima idea, John. Provare cose nuove può essere così eccitante. La vita è troppo breve per attenersi alla stessa routine, giusto? Assolutamente, John. Dovremmo abbracciare nuove esperienze. Usciamo dalle nostre zone di comfort e godiamoci la vita al massimo. Sono con te, John. Sfruttiamo al massimo ogni momento. Quali hobby ti interessa esplorare, Anna? Ho sempre voluto imparare a fotografare e magari provare a dipingere. Sono scelte fantastiche, Anna. Hai un lato creativo. Tu che ne dici, John? Hai avuto qualche hobby in mente? Ero curioso di suonare la chitarra e magari imparare a cucinare. È fantastico, John. Suonerai la chitarra e preparerai piatti deliziosi. Dovremmo incoraggiarci a vicenda a dedicarci ai nostri hobby, Anna. Sicuramente, John. Supporto e motivazione fanno molta strada. Prendiamoci cura di noi stessi anche mentalmente e fisicamente, Anna. La cura di sé è importante, John. Ne faremo una priorità. Quindi, eccoci a esplorare nuovi hobby, goderci la vita e prenderci cura di noi stessi, Anna. Assolutamente, John. Manteniamo alta l'energia positiva e abbracciamo la gioia di vivere. Congratulazioni, Anna. Ci attendono tempi entusiasmanti. Lezione 4. A volte il lavoro può diventare opprimente. Ehi, Anna. A volte il lavoro può essere faticoso, giusto? Assolutamente, John. Ma ho imparato l'importanza delle pause. Anch'io, Anna. È essenziale per il nostro benessere mentale. Quando le cose si fanno difficili, faccio un passo indietro, mi rilasso e mi ricarico. È un approccio intelligente, Anna. Ci aiuta a ritrovare la prospettiva. Esattamente, John. Ricordo a me stesso che posso farcela. Il dialogo interiore positivo contribuisce notevolmente a rafforzare la nostra fiducia. Fare delle pause non significa che non possiamo gestirlo, John. Hai ragione, Anna. Si tratta di mantenere un sano equilibrio. Siamo in grado di superare le sfide, un passo alla volta. E quando torniamo dalle pause, ci sentiamo riposati e concentrati. Assolutamente, John. La nostra produttività e creatività prosperano. Quindi, ricordiamoci di fare delle pause, rilassarci e ricordare a noi stessi che possiamo farcela, Anna. Sono d'accordo, John. Svolgiamo i nostri compiti con una mente lucida. Bisogna trovare l'equilibrio perfetto e raggiungere il successo, Anna. Congratulazioni, John. Abbiamo questo. Lezione 5. Hai trovato un candidato adatto per l'opportunità di lavoro? Ehi, Anna. Hai trovato un candidato adatto per l'opportunità di lavoro? Non ancora, John. Stavo cercando, ma finora non ho avuto fortuna. Può essere difficile trovare la persona giusta per la squadra. È vero, John. Voglio qualcuno che sia una coppia perfetta. Forse hai bisogno di ulteriori indicazioni nel processo di assunzione. Hai ragione, John. Qualche consiglio esperto potrebbe fare la differenza. Possiamo contattare agenzie di reclutamento o professionisti delle risorse umane. Buona idea, John. Possono fornire informazioni preziose. Ci aiuteranno a identificare le qualità che dovremmo cercare. Con la loro guida, sono sicuro che troveremo il candidato ideale. La pazienza è fondamentale, Anna. Arriverà la persona giusta. Assolutamente, John. Non mi accontenterò di niente di meno. Continuiamo a cercare e restiamo aperti a nuove possibilità, Anna. Sono determinato a trovare la soluzione perfetta, John. Senza compromessi. Bisogna trovare il candidato ideale e costruire una squadra forte, Anna. Congratulazioni, John. La nostra coppia perfetta è dietro l'angolo. Lezione 6. Facciamo un piquenico oggi. Ehi, Anna. Facciamo un piquenico oggi. Sembra perfetto. Porterò dei panini e un po' di frutta. Ottimo. Porterò una coperta e delle bevande. C'è nient'altro che dovremmo portare? Forse delle patatine per uno spuntino? Buona idea. Anch'io vado a prendere delle patatine. Fantastico. Avremo una deliziosa crema da spalmare. Assolutamente. Non vedo l'ora di godermi il cibo. Nemmeno io. Sarà molto divertente. E avremo anche una bella vista. Questo è vero. La natura mi rilassa sempre. È il modo perfetto per trascorrere la giornata. Sono completamente d'accordo. Dovremmo farlo più spesso. Sicuramente. È un ottimo modo per rilassarsi e divertirsi. Sono contenta di aver pianificato questo picnic. Anche io. Sarà una giornata memorabile. Facciamo in modo di scattare molte foto. Assolutamente. Cattureremo i ricordi. Sono emozionata. A presto. Ci vediamo a breve. Lezione 7. Hai seguito le notizie sui funzionari eletti? Hai seguito le notizie sui funzionari eletti? Sì. L'ho fatto. È stato piuttosto interessante. Esattamente. A volte è scoraggiante perdere la fiducia. So cosa intendi. Ci aspettiamo di meglio da loro. È importante ritenerli responsabili. Assolutamente. Dovrebbero lavorare per le persone. Vorrei che ci fossero politici più onesti. Sarebbe rinfrescante, vero? Sicuramente sì. Abbiamo bisogno di cambiamenti positivi. Forse dovremmo candidarci noi stessi. Ah, sarebbe fantastico. Potremmo portare l'integrità tanto necessaria. E fai la differenza nella nostra comunità. Mi piace come suona. Facciamolo. Bene, iniziamo con il coinvolgerci a livello locale. Questo è un ottimo primo passo. Possiamo avere un impatto. E ispira anche gli altri a impegnarsi. Insieme, possiamo creare cambiamenti positivi. Sono entusiasta delle possibilità. Anche io. Cominciamo subito. Concordato. La nostra comunità merita di meglio. Assolutamente. E faremo in modo che accada. Lezione 8. Quali articoli hai intenzione di acquistare? Ehi, Anna. Ho sentito che stai andando a fare shopping. Quali articoli hai intenzione di acquistare? Ciao, John. Devo comprare latte, pane e uova. Sono cose essenziali, Anna. C'è altro sulla tua lista? Mmm, forse anche un po' di frutta e verdura fresca. Ottima idea, Anna. È importante seguire una dieta equilibrata. Sicuramente. Dobbiamo tenere sotto controllo quei nutrienti. A proposito, preferisci il pane bianco o integrale? Integrale, per favore. È più salutare e saziante. Sono d'accordo, Anna. Il grano integrale è la strada da percorrere. Tu che ne dici, John? Che articoli ti servono? Beh, sono a corto di chicchi di caffè e cereali. Ah, l'essenziale per una buona colazione. Non posso iniziare la giornata senza di loro, Anna. C'è altro sulla tua lista della spesa, John? Amm, potrei prendere degli snack per le serate di cinema. Sembra un piano, John. Le serate al cinema sono sempre divertenti. Assolutamente, Anna. Pronti per un po' di popcorn e una risata? Non dimenticare anche le comode coperte, John. Certo, Anna. Le serate di cinema richiedono tutti i comfort. Bene, facciamo la spesa e godiamoci le nostre prelibatezze. D'accordo, Anna. Conquistiamo insieme quel supermercato. Pronti, partenza, via. Buon shopping, John. Buon shopping, Anna. Troviamo le migliori offerte. Lezione 9, ci siamo concentrati sulle campagne, e sul coinvolgimento dei social media. E Anna, ricordi come abbiamo affrontato il progetto in modo diverso questa volta? Sì, è stato sicuramente un approccio unico. In che modo l'abbiamo affrontata in modo diverso? Ci siamo concentrati sulle campagne e sul coinvolgimento dei social media. Ah, proprio così. Abbiamo utilizzato il potere della tecnologia. Ci ha aiutato a raggiungere un pubblico più ampio. E suscita più interesse per il nostro progetto. I social media possono cambiare le regole del gioco. Sicuramente. È un potente strumento di comunicazione. Inoltre, è anche conveniente. Questo è vero. Abbiamo risparmiato molto sulle spese di marketing. E i risultati sono stati impressionanti. Il nostro progetto ha riscosso molto successo. È stato emozionante vedere la risposta. Sono contento che questa volta abbiamo adottato un approccio diverso. Anche io. È stata un'esperienza di apprendimento. Dovremmo continuare a esplorare nuove strategie. Assolutamente. L'innovazione porta al successo. E mantiene anche le cose interessanti. Vero. Non smettiamo mai di crescere e adattarci. Questo è ciò che ci distingue. Ed è ciò che ci mantiene all'avanguardia. Lezione 10. Quali modifiche proponete in merito alla cessazione? Ah sì, quali modifiche proponete in merito alla risoluzione? Beh, penso che dovremmo rivedere il processo. In che modo? Qualche idea specifica? Un'idea è fornire maggiore supporto ai dipendenti. Questa è una buona osservazione. Dovremmo dare priorità al loro benessere. E magari offrire ulteriori opportunità di formazione. Ottimo suggerimento. L'apprendimento continuo è prezioso. Potremmo anche migliorare la comunicazione durante il processo. Assolutamente. Una comunicazione chiara e tempestiva è fondamentale. Un'altra idea è implementare un sistema di feedback. Ottima idea. Il feedback può portare alla crescita e al miglioramento. Infine, assicuriamo equità e trasparenza. Concordato. Tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Apportare queste modifiche può migliorare il processo di terminazione. Penso che creerà anche un ambiente di lavoro più positivo. Sicuramente. Le persone si sentiranno apprezzate e supportate. È importante migliorare costantemente le nostre pratiche. Assolutamente. Dovremmo sempre lottare per il meglio. Sono felice che stiamo discutendo di queste idee. Anche io. Lavoriamo per un cambiamento positivo. Lezione 11. Hai altri hobby? Quindi, oltre alla lettura, hai altri hobby? Beh, mi piace anche fare escursioni ed esplorare. Sembra avventuroso. Dove vai di solito a fare escursioni? Mi piace esplorare i sentieri locali e i parchi nazionali. È fantastico. La natura ha così tanto da offrire. Assolutamente. È anche un ottimo modo per rimanere attivi. Dovrei assolutamente unirmi a te per un'escursione qualche volta. Sarebbe divertente. Possiamo scoprire nuovi percorsi insieme. Conta su di me. Porterò i miei scarponi da trekking. Ottimo. Mi assicurerò di preparare anche degli snack. L'escursionismo e l'esplorazione sembrano una combinazione perfetta. Lo è davvero. C'è qualcosa di magico nella natura. Sono completamente d'accordo. È rinfrescante e rigenerante. Inoltre, potremmo imbatterci in uno splendido scenario. Questo è vero. La natura ha i suoi tesori nascosti. Creeremo ricordi meravigliosi durante le nostre avventure escursionistiche. Assolutamente. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con te. Anche io. Preparati per delle fantastiche escursioni, John. Non vedo l'ora, Anna. Conquistiamo quei sentieri. Lezione 12. Pensi che le attività di team building siano importanti? Anna, pensi che le attività di team building siano importanti? Assolutamente. Aiutano a promuovere un ambiente di lavoro positivo. Sono d'accordo. È un ottimo modo per costruire relazioni. Inoltre, aumenta il morale e la produttività. Questo è vero. Le persone si sentono più connesse e motivate. Dovremmo pianificare alcune attività divertenti per il nostro team. Buona idea. Creerà un senso di unità. Forse un ritiro di team building o una divertente giornata di gioco? Entrambi sembrano fantastici. Facciamo brainstorming su altre idee. E cosa ne pensi del lavoro a distanza? Nel complesso, penso che abbia i suoi pro e contro. Sono d'accordo. Offre flessibilità ma può isolare. È importante trovare un equilibrio che funzioni per tutti. La comunicazione diventa ancora più cruciale nel lavoro a distanza. Assolutamente. Dobbiamo rimanere connessi e impegnati. Le attività di team building virtuale possono contribuire a colmare il divario. Questo è un ottimo punto. Dovremmo incorporare anche quelli. Il lavoro a distanza può avere successo con le giuste strategie. Sicuramente. Si tratta solo di adattarsi e trovare soluzioni. Facciamo in modo che il nostro team si senta supportato, da remoto o di persona. Assolutamente. Il benessere del nostro team è una priorità. Insieme possiamo creare una cultura del lavoro positiva. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Anche io, John. Facciamo in modo che accada. Lezione 13. Che tipo di esercizio fai? Questo è fantastico. Che tipo di esercizio fai? Di solito vado a fare jogging o a fare yoga. Jogging e yoga, eh? È una buona combinazione. Mi mantiene attivo e mi aiuta anche a rilassarmi. Dovrei unirmi a te per fare jogging qualche volta. Certo. Sarà un allenamento divertente insieme. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Inizia lentamente e aumenta gradualmente il ritmo. Ho capito. Farò un passo alla volta. Questo è lo spirito. La coerenza è fondamentale. Allora mi assicurerò di attenermi a una routine. E tu che mi dici, John? Qual è il tuo esercizio preferito? Mi piace giocare a basket con gli amici. Sembra molto divertente e ottimo cardio. Sicuramente mi fa battere il cuore. Dovremmo organizzare una partita amichevole qualche volta. Assolutamente. Sarà un buon allenamento e tante risate. Risate d'esercizio fisico. La combinazione perfetta. Non potrei essere più d'accordo. Facciamo in modo che accada, Anna. Conta su di me, John. Facciamo qualche tiro a canestro e divertiamoci. Lezione 14. Hai provato il check-out automatico? Anna, hai provato il check-out automatico? È comodo. Sì, l'ho fatto. Fa risparmiare tempo ed evita lunghe code. Sono d'accordo. È un'ottima opzione per fare acquisti veloci. Hai portato le tue borse per la spesa? Ops. Li ho dimenticati questa volta. Che ne dici di te? Ho portato borse riutilizzabili. Cercando di essere ecologici. È fantastico. Dovrei fare lo stesso la prossima volta. È un piccolo passo, ma ogni cosa aiuta l'ambiente. Hai ragione. Ho bisogno di esserne più consapevole. Ed è anche più comodo portare la spesa. Sicuramente. Mi assicurerò di tenere a portata di mano i sacchetti riutilizzabili. Buona idea. È un semplice cambiamento che fa la differenza. Sono contenta che tu me l'abbia ricordato. Sarò più preparato la prossima volta. Possiamo incoraggiare anche gli altri a portare i propri bagagli. Assolutamente. Diffondiamo la mentalità ecologica. Insieme possiamo avere un impatto positivo. Sono grata di averti come amica attenta all'ambiente, Anna. Il sentimento è reciproco, John. Continuiamo così. Lezione 15. Puoi aiutarmi in questo compito? Anna, puoi aiutarmi con questo compito? Non è affatto un problema. Sono felice di aiutarti. È molto gentile da parte tua. Lo apprezzo. Non preoccuparti. Dopotutto siamo una squadra. Sei sempre dalla mia parte, Anna. Allo stesso modo, John. Ci sosteniamo a vicenda. È bello avere un amico così affidabile. Il sentimento è reciproco. Formiamo una buona squadra. Sicuramente lo facciamo. Insieme, possiamo fare qualsiasi cosa. Assolutamente. Affrontiamo questo compito e conquistiamolo. Con il tuo aiuto, so che ce la faremo. E con la tua determinazione, ce la faremo. Grazie, Anna. Non potrei farlo senza di te. Non dirlo, John. È a questo che servono gli amici. Sei la migliore, Anna. Ti rispondo subito, John. Facciamolo. Lezione 16. Un bicchiere di latte freddo sembra rinfrescante. Anna, ho voglia di un po' di latte. Suona bene, vero? Assolutamente. Un bicchiere di latte freddo sembra rinfrescante. Allora facciamo una lista della spesa? Buona idea. Annotiamo ciò di cui abbiamo bisogno. Il latte, ovviamente. Cos'altro dovremmo prendere? Che ne dite di un po' di pane e uova? Ottime aggiunte. Non possiamo dimenticarli. Oh, e stiamo anche esaurendo i cereali. Perfetto. I cereali sono un must per la colazione. Qualche altro elemento essenziale che dovremmo aggiungere? Forse un po' di frutta e verdura per un sano equilibrio. Ottimo suggerimento. Abbiamo bisogno di quei nutrienti. Abbiamo bisogno di snack o dolcetti? Mmmh, una piccola indulgenza non guasterebbe. Aggiungiamo una barretta di cioccolato. Mi piace il tuo modo di pensare, Anna. Un piccolo regalo fa sempre piacere. Ora abbiamo un elenco completo. Andiamo al negozio? Assolutamente. Facciamo la spesa e godiamoci quel bicchiere di latte. Concordato. Latte, generi alimentari e buona compagnia. Sarà una bella giornata. Non potrei essere più d'accordo. Trasformiamo questo giro di shopping in un'avventura divertente. Pronti, partenza, via. Andiamo al negozio. Lezione 17. Abbiamo un evento di team building in arrivo. Anna, abbiamo un evento di team building in arrivo. È una grande opportunità per creare legami. Assolutamente. È sempre divertente creare nuove connessioni. Sono entusiasta di incontrare nuovi colleghi e rafforzare il nostro lavoro di squadra. Anche io. È un'occasione per creare un ambiente di lavoro favorevole. Qualche idea per attività di team building? Che ne dici di un amichevole gioco a quiz o di una caccia al tesoro? Entrambi sembrano coinvolgenti. Facciamo emergere il nostro spirito competitivo. Possiamo anche pianificare una gita di gruppo o un pranzo di squadra. Ottimi suggerimenti. Sarà un'occasione per rilassarsi e divertirsi. E anche le risate sono un ottimo modo per creare legami. Forse qualche gioco di team building? Assolutamente. Includiamo alcuni rompighiaccio e sfide di squadra. Sono sicuro che sarà un evento memorabile pieno di risate e caperatismo. E chissà, potremmo scoprire talenti nascosti all'interno del nostro team. Questo è lo spirito, John. Cogliamo l'opportunità e sfruttiamola al meglio. Sicuramente, John. Creiamo ricordi duraturi e rafforziamo i nostri legami. Anna, se dovesse avere problemi, fammelo sapere. Troveremo una soluzione insieme. Grazie, John. Apprezzo il tuo supporto. Lo stesso vale per te. Assolutamente. Siamo qui per aiutarci a vicenda. A proposito, il Wi-Fi è disponibile in quest'area? Sì, lo è. È possibile connettersi facilmente alla rete. È bello saperlo. Devo completare alcune attività online. Se ti serve la password, chiamami. Lo farò, John. Grazie per essere il guru del Wi-Fi. Ho ho, felice di aiutarti con tutte le tue esigenze tecniche, Anna. Sei la mia persona di riferimento per tutto ciò che riguarda la tecnologia. E tu sei la mia persona di riferimento per ottimi consigli e supporto. Formiamo un duo dinamico, John. Sempre lì l'uno per l'altro. Questo è sicuro, Anna. Ci copriamo le spalle a vicenda. È confortante sapere che possiamo contare l'uno sull'altro. Assolutamente. Siamo una squadra e insieme possiamo conquistare qualsiasi cosa. Conta su di me, John. Affrontiamo insieme le sfide della vita. Lezione 19. Restiamo concentrati sui nostri obiettivi oggi. Anna, restiamo concentrati sui nostri obiettivi oggi. Assolutamente, John. Abbiamo questo. Ehi, come ti senti a socializzare ultimamente? Onestamente, sono stato un po' titubante, ma sono aperto. Capisco. A volte può essere travolgente. Tu che ne dici, John? Sei pronto per alcune interazioni sociali? In realtà non vedo l'ora di riconnettermi con gli amici. Questo è fantastico. È bello uscire dalla nostra zona di comfort. Vero. La socializzazione può essere divertente e gratificante. Finché troviamo il giusto equilibrio, va tutto bene. Assolutamente. È importante dare priorità anche al nostro benessere. Concordato. Possiamo affrontarla al nostro ritmo. E ricorda, Anna, sono qui per aiutarti. Grazie, John. La tua amicizia significa molto per me. Allo stesso modo, Anna. Lo affronteremo insieme. Pronto a navigare nella scena sociale, John? Facciamolo, Anna. Un'interazione sociale alla volta. Ecco nuove connessioni ed esperienze memorabili. Lezione 20. Sei mai stato in viaggio prima d'ora? Anna, sei mai stata in viaggio prima d'ora? Sì, l'ho fatto. Sono un ottimo modo per esplorare e divertirsi. È fantastico. Dove sei andato durante i tuoi viaggi in auto? Sono stato in vari luoghi, come parchi nazionali e città costiere. Sembra eccitante. Momenti memorabili o storie divertenti? Oh, decisamente. Come quella volta che ci siamo persi, e siamo finiti in un piccolo villaggio. Oh oh, perdersi fa parte dell'avventura, giusto? Assolutamente. Ci ha portato a scoprire gemme nascoste e incontrare gente del posto amichevole. I viaggi su strada sono un ottimo modo per creare ricordi duraturi. Non potrei essere più d'accordo, John. La libertà della strada aperta è esaltante. Qualche consiglio per qualcuno che pianifica il suo primo viaggio in auto? Pianifica un itinerario flessibile, prepara degli snack e non dimenticare la playlist musicale. Un buon consiglio. Una playlist da viaggio crea l'atmosfera giusta per il viaggio. E non abbiate paura di fare deviazioni ed esplorare luoghi insoliti. Questo è lo spirito. Accetta l'inaspettato e goditi il viaggio. Esattamente, John. I viaggi in auto riguardano solo il viaggio, non solo la destinazione. Mi emoziono solo a pensarci. Pianifichiamo un viaggio insieme. Conta su di me, John. Sarà un'avventura che non dimenticheremo mai. Lezione 21. Ottime scelte per la nostra routine di cura della pelle. Anna, abbiamo scelto alcune ottime scelte per la nostra routine di cura della pelle. Assolutamente. Ora diamo un'occhiata alle lozioni. Dovremmo scegliere una lozione idratante o qualcosa con SPF? Che ne dici di una lozione che offre idratazione e protezione solare? Sembra una scelta intelligente. Troviamone uno con SPF. Dovremmo anche considerare i nostri tipi di pelle. Qualche preferenza? Ho la pelle secca, quindi una lozione con maggiore idratazione sarebbe fantastica. Ho la pelle sensibile, quindi un'opzione delicata e ipoallergenica sarebbe adatta a me. Ottima osservazione. Vogliamo prodotti che soddisfino le nostre esigenze specifiche. Leggiamo le etichette e vediamo se ci sono lozioni adatte. E dovremmo controllare anche eventuali fragranze o allergeni aggiunti. Ah, eccone uno che sembra soddisfare tutti i nostri requisiti. Sgradevoli. Perfetto. Proviamolo e vediamo come si sente sulla nostra pelle. Concordato. Trovare la lozione giusta è come trovare un tesoro per la cura della pelle. È come regalare alla nostra pelle un trattamento mini spa ogni giorno. La nostra pelle ci ringrazierà per la cura e l'idratazione extra. Davvero, John? Facciamo di questa lozione parte della nostra routine quotidiana. Saluti a una pelle sana e felice, Anna. Salute, John. Alla pelle luminosa e alla cura di sé. Lezione 22. Sai dov'è la sala riunioni? Anna, sai dov'è la sala riunioni? Certo. È in fondo al corridoio alla tua sinistra. Grazie, Anna. Apprezzo le indicazioni. Nessun problema, John. Felice di aiutare. Mi ritrovo sempre a cambiare idea in questo edificio. Può creare un po' di confusione, ma ci si abitua. Lo spero. Non voglio finire nel posto sbagliato. Non si preoccupi. Segui le indicazioni e starai bene. Terrò d'occhio il cartello della sala riunioni. Questa è una buona idea. Dovrebbe essere chiaramente contrassegnato. Mi assicurerò di ricontrollare prima di entrare. Ottimo piano. Non vuoi sorprese. Assolutamente. Voglio fare una buona prima impressione. Ce l'hai, John. Sì te stesso e abbi fiducia in te stesso. Grazie, Anna. Il tuo supporto significa molto per me. Quando vuoi, John. Puoi sempre contare su di me. Sono contenta che siamo nella stessa squadra, Anna. Anche io, John. Conquistiamo quell'incontro insieme. Facciamolo, Anna. Avanti verso la sala riunioni. Lezione 23. Abbiamo compiuto alcuni passi cruciali verso i nostri obiettivi. Anna, abbiamo fatto alcuni passi fondamentali verso i nostri obiettivi. Assolutamente. Il progresso è fondamentale. Siamo sulla strada giusta. Che mi dici di te, Anna? Hai in mente progetti per il futuro? Sto pensando di approfondire la mia istruzione o di seguire un nuovo corso. È emozionante. L'apprendimento e la crescita personale sono sempre preziosi. Sono d'accordo. È importante continuare ad ampliare le nostre conoscenze. Hai deciso un campo o un'area di interesse specifici? Mi sto orientando verso il marketing o i media digitali. Sono ottime scelte. Offrono molte opportunità. E tu, John? Qualche piano per il futuro all'orizzonte? Sto pensando di avviare un'attività in proprio un giorno. Wow, è ambizioso. Che tipo di attività? Sono interessato al settore tecnologico, forse allo sviluppo di software. Fantastico, John. Vedo che hai successo in quel campo. Grazie, Anna. Il tuo supporto significa molto per me. Allo stesso modo, John. Siamo qui per sostenere i sogni l'uno dell'altro. Assolutamente, Anna. Insieme, realizzeremo grandi cose. Continuiamo a lavorare sodo, e a perseguire le nostre aspirazioni. Un futuro radioso pieno di successi e soddisfazioni. Salute, John. Che possiamo raggiungere nuove vite e trasformare i nostri sogni in realtà. Lezione 24. Hai esaminato le opzioni di alloggio? Anna, hai esaminato le opzioni di alloggio per il nostro viaggio? Sì, l'ho fatto. Ci sono cabine o lodge nelle vicinanze? Sembra una scelta accogliente e rustica. Fammi controllare. Adoro l'idea di essere circondata dalla natura. Buone notizie. Ci sono cabine disponibili a breve distanza in auto. È perfetto. Sarà un rifugio tranquillo per noi. Effettuerò la prenotazione subito prima che vengano prenotati. Ottimo. Non dimenticare di menzionare eventuali preferenze specifiche. Richieste relative ai servizi o alla posizione della cabina? Un caminetto sarebbe bello e, se possibile, una vista panoramica. Notato. Vedrò se riesco a trovarne uno con queste caratteristiche. Sei il migliore, John. Grazie per essertene occupato. Nessun problema, Anna. Fa tutto parte del processo di pianificazione. Non vedo l'ora di rilassarmi e di stendermi in cabina. Anche io. Sarà una fuga rinfrescante dalla città. Ci divertiremo molto, John. La natura ci aspetta. Davvero, Anna. Abbracciamo la tranquillità della natura selvaggia. Ecco cabine accoglienti, panorami mozzafiato e ricordi indimenticabili. Salute, Anna. Che l'avventura in cabina abbia inizio. Lezione 25. Abbiamo lavorato duramente sul nostro piano aziendale. Ehi, Anna. Abbiamo lavorato duramente sul nostro piano aziendale. Pronti a presentarlo? Assolutamente, John. Mostriamo le nostre idee con fiducia. Abbiamo svolto le nostre ricerche e ci siamo preparati a fondo. Esatto, John. Conosciamo alla perfezione il nostro piano. Li stupiremo con la nostra conoscenza e passione. La fiducia è fondamentale per fare una buona impressione. Parleremo in modo chiaro e coinvolgeremo il pubblico. Il contatto visivo e l'entusiasmo li conquisteranno, John. E non dimentichiamo di rispondere a eventuali domande. Esattamente, John. Saremo pronti per qualsiasi curva. Abbiamo un piano solido, Anna. Mostriamo loro di cosa siamo fatti. Non riusciranno a resistere alla nostra visione aziendale, John. Saremo i maestri della presentazione, Anna. Non c'è che dire, John. Brilleremo come stelle. Quindi, riassumiamo la nostra fiducia e andiamo a conquistare quella presentazione, Anna. Assolutamente, John. Siamo pronti a lasciare il segno. Dobbiamo presentare il nostro piano aziendale con fiducia e raggiungere il successo, Anna. Non vedo l'ora di condividere con voi tutti gli entusiasmanti aggiornamenti. Sono curioso di sapere com'è andato tutto. Era come una macchina ben oliata, senza alcun singhiozzo. Fantastico! Sapevo che avevamo tutto sotto controllo. Il nostro lavoro di squadra ha dato i suoi frutti. Siamo un'ottima squadra, John. Assolutamente. La nostra efficienza non ha uguali. Dovremmo festeggiare il nostro successo. Che ne dite di una bella cena in quel ristorante elegante? Sembra il modo perfetto per brindare ai nostri successi. Farò una prenotazione per stasera. Ottimo! Mi vestirò per l'occasione. Sarà una notte da ricordare. Davvero! Godiamoci i frutti del nostro lavoro. Complimenti per il lavoro ben fatto. Salute, John! Alla conquista del nostro successo! Lezione 27 Hai avuto difficoltà con la lingua? Anna, hai avuto difficoltà con la lingua? Fortunatamente, l'inglese era ampiamente parlato lì. È un sollievo. La comunicazione deve essere stata più facile. Assolutamente. Non ho avuto problemi a spostarmi. È sempre utile quando l'inglese è ampiamente compreso. Sono d'accordo. Rende il viaggio molto più agevole. Ricordo quando siamo andati in quel paese non anglofono. Oh, è stata un'avventura. Ci siamo affidati ai gesti delle mani e ai sorrisi. Oh oh, siamo diventati esperti di comunicazione non verbale. È stato divertente cercare di farci capire. Ti ricordi quella volta che abbiamo ordinato per sbaglio delle lumache al posto del pollo? Oh sì, è stato un pasto piuttosto sorprendente. Le barriere linguistiche possono portare a esperienze culinarie inaspettate. Ha sicuramente aggiunto un po' di sapore ai nostri viaggi. Dovremmo rispolverare alcune frasi di base per il nostro prossimo viaggio. Buona idea! Evitiamo qualsiasi sorpresa legata alle lumache. D'accordo. Prepariamoci per le avventure linguistiche che ci attendono. Ecco come ampliare le nostre competenze linguistiche. Salute, Anna. Accettiamo la sfida. Lezione 28. Puoi rilassarti nella lounge dell'aeroporto o esplorare i negozi. Anna, puoi rilassarti nella lounge dell'aeroporto o esplorare i negozi. Mh, decisioni, decisioni. Il salone dispone di comode sedie e snack gratuiti. Ma i negozi potrebbero fare delle ottime offerte. È vero, potresti fare acquisti dell'ultimo minuto. Adoro fare un buon affare. E mi servirebbe un po' di relax prima del volo. Potremmo dividerci e incontrarci più tardi. In questo modo otteniamo entrambi ciò che vogliamo. Sembra un piano. Ci vediamo al cancello. Buon viaggio, Anna. Anche tu, John. Buon volo. Lezione 29. Riassumere i punti principali aiuta a confermare la nostra comprensione. Anna, riassumere i punti principali aiuta a confermare la nostra comprensione. Assolutamente. Inoltre chiarisce ogni confusione. Quindi, esaminiamo i dettagli chiave. Domani abbiamo una riunione alle 10. Bene, e dobbiamo preparare la presentazione. Inoltre, dovremmo finalizzare il rapporto sul budget. Perfetto, e non dimenticare di inviare un'email al team. Ho capito, lo farò prima della fine della giornata. Eccellente. Siamo sulla stessa pagina. Riassumere fa davvero la differenza. Garantisce che siamo allineati e pronti ad affrontare i compiti. Esattamente. Mettiamoci al lavoro e portiamo a termine questo progetto. D'accordo, Anna. Abbiamo questo. Facciamo in modo che sia un successo, John. Lezione 30. Puoi aiutarmi a trovare la fermata dell'autobus più vicina? Mi scusi, può aiutarmi a trovare la fermata dell'autobus più vicina? Certo, fammi controllare il telefono. Grazie, Anna. Lo apprezzo. Ok, è a soli due isolati di distanza. Ottimo. Spero di non perdere l'autobus. Non preoccuparti, abbiamo molto tempo. Sono felice che tu sia qui per orientarti, Anna. È a questo che servono gli amici, giusto? Assolutamente. Il tuo senso dell'orientamento è incredibile. Oh, ho i miei momenti. Beh, sono fortunato ad averti al mio fianco. E sono fortunato ad avere un amico come te, John. Prendiamo quell'autobus e continuiamo la nostra avventura. Andiamo avanti, John. Tenetevi forte. Lezione 31. La maggior parte dei taxi ha un baule dove riporre i bagagli. Anna, la maggior parte dei taxi ha un baule dove puoi riporre i bagagli. Buono a sapersi. Spero che la mia valigia stia bene. Dovremmo controllare le dimensioni prima di chiamare un taxi. Non voglio avere problemi con una valigia gigante. Sì, non vogliamo essere quei turisti. Immagina di provare a mettere un pianoforte in un taxi. Oh, oh, sarebbe uno spettacolo. Immaginiamo in modo intelligente e manteniamolo gestibile. D'accordo, compatta ed efficiente è la strada da percorrere. Viaggeremo come professionisti in pochissimo tempo. Ricorda solo che niente pianoforti. Non preoccuparti, lascerò il mio pianoforte a casa. Ottima idea, Anna. Troviamo un taxi e mettiamoci in viaggio. Pronti per la nostra avventura con i bagagli, John. Andiamo. Lezione 32. Sai in che corridoio si trovano i pomodori? Ottimo. Sai in che corridoio si trovano i pomodori? Mmh, fammi pensare. Credo sia la corsia 6. Bene, andiamo lì a cercare quei pomodori succosi. Aspetta, ci servono altri ingredienti per la ricetta. Oh, giusto, abbiamo bisogno anche di cipolle e aglio. Penso che dovrebbero essere nella corsia 3. Perfetto, prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per un pasto delizioso. Non dimenticate il basilico nella sezione prodotti freschi. Capito, corsia 6 per i pomodori, corsia 3 per cipolle e aglio e prodotti freschi per il basilico. La nostra missione è trovare gli ingredienti perfetti. Prepariamo una tempesta, Anna. Non vedo l'ora di assaggiare il nostro capolavoro culinario, John. Lezione 33. Ho sentito che l'architettura è incredibile in questa città. Anna, ho sentito che l'architettura è fantastica in questa città. Non vedo l'ora di vedere gli edifici e i design unici. E dobbiamo provare anche la cucina locale. Assolutamente. Provare nuovi piatti è una delle parti migliori del viaggio. C'è qualche città in particolare che hai in mente? Che ne dici di Barcellona? È noto per la sua splendida architettura e il cibo delizioso. Barcellona sembra perfetta. Pianifichiamo il nostro viaggio lì. Mangeremo paella e ammireremo i capolavori di Gaudì. Sto già immaginando i sapori appetitosi e i panorami mozzafiato. Sarà un'avventura per le nostre papille gustative e per gli occhi. Non vedo l'ora di esplorare la città insieme, Anna. Barcellona, arriviamo. Assaporiamo ogni momento. Lezione 34. Assicurati di goderti ogni momento della tua avventura. Anna, assicurati di goderti ogni momento della tua avventura. Lo farò, John. Apprezzerò ogni esperienza. Scatta molte foto per immortalare i ricordi. Sicuramente. Voglio ricordare ogni dettaglio. E non dimenticare di provare cose nuove e di uscire dalla tua zona di comfort. Sarò aperto a nuove esperienze e abbraccerò l'ignoto. Questo è lo spirito, Anna. Carpe Diem. Cogli l'attimo davvero, John. La vita è troppo breve per trattenersi. Sfrutta al massimo ogni opportunità e divertiti. Avrò storie da raccontare e un cuore pieno di gioia. Buon viaggio, Anna. Goditi ogni momento al massimo. Grazie, John. Lo renderò un viaggio indimenticabile. Lezione 35. Stavo esaurendo i pomodori in scatola. Questo è fantastico. Stavo finendo i pomodori in scatola. Tempismo perfetto. Sei fortunato. Finalmente posso preparare il mio famoso sugo per spaghetti. Non vedo l'ora di assaggiare il tuo capolavoro culinario. Riguarda l'ingrediente segreto. Oh, posso conoscere il segreto? Beh, diciamo solo che implica un pizzico di magia. Ah, sapevo che avevi qualche trucco culinario nella manica. Sta tutto nell'arte della cucina, amico mio. Bene, sono pronto a lasciarmi stupire dal tuo sugo per spaghetti. Preparati per un'esplosione di sapori, Anna. Sto contando i minuti, John. Mangiamo.